Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In effetti. E poi vogliamo parlare di tutti quegli enti che chiamano inutili. Via tutto. Mio cugino ci faceva affidamento e ora qui il vento sta cambiando. E il nuovo vento ci spazzerà via. Ma allora non ti ho segnato proprio nulla, vero? Vinceremo noi non cambierà assolutamente niente. Noi non siamo soli. Abbiamo tanti alleati invisibili. Basterà assinuare il dubbio. Questa riforma elimina il senato, no? Beh, ma allora così il potere si accentra. Qui finiamo in un regime. Qui si torna al fascismo. Ma poi qualcuno disponibile a raccontare qualche balla si trova sempre. E chi? Ma credi davvero che questa situazione di fatto faccia comodo solo a noi? No, ragazzo mio. Il grano abbia saputo distribuirlo nei posti giusti. Chi sta già bene oggi, chi riceve regolarmente favori o raccomandazioni, perché dovrebbe voler cambiare? I ristoranti non saranno pieni, come dicono. Ma sono pieni certamente della gente giusta. Quella che anche se allungassimo i mesi, a fine mese ci arriverebbe lo stesso e glielo avanzerebbe pure, perché tanto paga lo Stato, no? Quindi una massa critica c'è. Ma a questi si possono aggiungere tutta una serie di compagni di strada, inconsapevoli ma fondamentali. Beh, tutti insieme si uniranno e si compatteranno per salvare la democrazia e il bene comune. Salvare il Senato da una riforma antidemocratica è in definitiva salvare noi. Non vorrà mica dire che dovremmo dare altro grano a tutti? Ma quanto sei ingenuo? È ovvio che non dovremmo pagare tutti. Poi con certa gente a cui piace vivere di sogni neanche sarebbe possibile, no? No, basta costruire la macina, poi questa gira da sola. Io convinco te, tu convinci lui, lui convince la sua amica che questa riforma è anticostituzionale, che è antidemocratica. Ma tu lo sai quanti intellettuali sono già dalla nostra parte? A questi non gli sembra vero di essere di nuovo sulle prime pagine dei giornali. Sono quelli che la Costituzione italiana è la più bella del mondo e guai a chi la tocca. Si lo so che questa frase fa un po' ridere, ma se ci pensi per noi è davvero la più bella del mondo così come è ora, con tutto il grano che ci garantisce. Inizia a capire. E poi ci sono i professionisti del no, quelli che dicono no a tutto, no alle grandi opere, no alle piccole opere, no alle novità, no alle riforme, no al pecorino sulla matriciana, no, 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 no. Sono i migliori, guarda. I migliori alleati e nemmeno lo sanno. Ma allora, senatore, come ci si organizza? Cioè, ho capito tutto il meccanismo, ma visto che effettivamente non possiamo dire ciò che davvero pensiamo, ma allora noi chi siamo? Per cosa siamo? Ma davvero ancora non l'hai capito? In che lingua te lo devo spiegare? Noi siamo per la democrazia e la difesa della Costituzione, è ovvio. Siamo per i mezzi pubblici che funzionano. È il venerdì corto per i loro dipendenti, salari più alti e prezzo dei biglietti più basso. Uno stadio per ogni squadra di calcio, anche amatoriale, ma basta con questo consumo di suolo. Siamo per la decrescita, ma ricca, che il caffè decaffeinato che tenga svegli. noi siamo competenti e con esperienza, ma siamo anche per il cambiamento. Noi siamo la continuità del cambiamento. Noi siamo per il popolo, quello che paga le tasse e quello che non le paga o che ce le paga a nero. E siamo contro i costi della politica. Per questo dovete pagarci, no? Noi siamo il futuro e le radici, il polli nell'antistamini con tasca, le chiavi dell'audi per chi oggi ha solo un punto. Noi siamo quel cazzo che vi pare e diciamo quel cazzo che ci dite di dire basta che a novembre al referendum voi votiate no! Ma almeno ve ne stiate a casa. Ma che vi frega di alzarvi dal vostro divano? Non è più avvincente il campionato. Restate lì, rilassatevi, guardatevi i Masterchef. Tanto ci pensiamo noi, pensiamo a tutto noi. Compreso Grano. Potrebbe anche funzionare. Ho fiducia che stia già funzionando. Ho fiducia che stia già funzionando.